Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, perché per me questo torneo fa cacare. Come il frullato con l'arcacaccio. No, perché per me questo torneo fa cacare. Chi le ha gioioso? Guarda che fa formazione, quanta strategia c'è dietro questi giocatori. Mamma mia, bisogna stare a casa, le spostano così. Grazie. Grazie. Ma ci sono i tornei gratuiti. No, no, no. No, no, però c'è... Che cosa fa? Vabbè, c'è che c'è davanti? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vabbè, c'è che c'è la mano? Vuoi dire che hai fatto un bel go? È un grandissimo go, guarda. Io... Una hai vinto un'altra partita, lo sai? No. Mi fermo le carte, no? No. No. Mi fermo le carte, no?